È già da parecchio tempo che una delle lamentele sicuramente più ripetute all'interno del tifo juventino si concretizza con una sorta di filastrocca ormai ripetuta. Abbiamo un centrocampo non all'altezza delle bighe europee, ragazzi. Questa è una frase che andrebbe presa, messa su una lettera, firmata praticamente e mandata letteralmente a Paratici Agnelli per far capire che ormai sono 3-4 stagioni che la Juve, quel centrocampo adatto alle bighe europee, non ce l'ha più, voglio dire. Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti. Detto questo, ragazzi, prima di iniziare a parlare al video vi saluto perché non l'ho fatto ovviamente appena iniziato. Mi auguro che stiate ovviamente tutti bene, tutto a posto e vi invito ovviamente ragazzi a seguirmi bene all'interno di questo discorso perché è un discorso che devo dire sarà un po' più lungo del normale perché riguarda il giocatore che vedete, avete visto in copertina, avete visto diciamo nell'anteprima che è Tonali. Tonali è un giocatore che credo sia ormai ricercato benissimo da praticamente quasi tutte le squadre italiane top, cioè quelle che occupano comunque le prime posizioni in classifica, ha anche corteggiatori esteri perché ci sono delle squadre, o meglio corteggiatrici in questo caso, ci sono delle squadre molto molto importanti come il Paris Saint-Germain, ci sono squadre come lo United, ci sono squadre come ad esempio il City che per Tonali appunto sarebbero pronti a formulare un'offerta, ma pare che la Juve sia la corsia preferenziale di questo ragazzo. Il perché e tutta la serie diciamo delle caratteristiche dell'affare ve lo spiego, ve lo spiego tutto in questo video. Allora cerchiamo di andare un po' con ordine perché il discorso è lungo e va fatto in maniera ordinata. Succede tutto durante la stagione in Serie B del Brescia, lì gli osservatori della Juve cominciano a notare un po' le prestazioni di Tonali, dicono cavolo questo ragazzo potrebbe seriamente diventare un ottimo talento, che succede? Faccio una bella cosa, comincio ad avviare i contatti con il Brescia. La prima volta che la Juve va a parlare con il Brescia per Tonali, il Brescia dice no, non è cedibile, vogliamo provare ancora noi a lanciare questo ragazzo che nel frattempo appunto esordisce il nazionale, fa una serie di cose molto importanti e continua a regalare prestazioni buone con il Brescia. Si è arrivati ad un punto in cui per via del mercato sicuramente, ragazzi, possiamo dirlo un po' esagerato nelle valutazioni, ma non nei confronti di Tonali, nei confronti di tutti i giocatori del mondo, si è arrivato ad un punto in cui Tonali valga qualcosa come 50-60 milioni di euro, che sono veramente tanti soldi. La Juve non ha nessuna intenzione di sborsare quella cifra in contanti. Quindi quando Cellino, il presidente del Brescia, ha comunicato a Paratici, vedi che se vuoi Tonali devi darci 50-60 milioni, forse anche di più a livello di bonus pluriennali, perché sono bonus legati alle prestazioni, ovviamente, ragazzi, Paratici ha detto no, ha detto guardate che 50-60 milioni noi per Tonali non ce li spendiamo. E so cosa state dicendo dall'altra parte dello schema, probabilmente tutti voi sarebbero lì pronti ad offrire quei soldi per Tonali, ma io dico che per una volta nella vita Paratici ha fatto una cosa molto molto buona, cioè si è imposta con il Brescia e ha detto sono trattabili, sì sono trattabili, allora inseriamo delle contropartite. Le contropartite che la Juventus può dare al Brescia non possono essere contropartite del genere di quelle che mi scrivete. Alcune volte mi scrivete in posto su Instagram, ma perché non diamo Rugani al Brescia? Ma perché non diamo Desciglio al Brescia? Perché sono giocatori che seppur la Juventus abbiano esaurito il proprio ciclo di utilità, in una squadra come il Brescia non potrebbero andare, semplicemente perché rifiuterebbero di andare in una squadra come il Brescia, avendo comunque altre squadre che questi giocatori vi hanno richiesti. Cioè siete giocati alla Juventus, mettetevi nei panni di Rugani di Desciglio, giocate alla Juventus, sapete di non poter trovare spazio, avete squadre che ne so, nel caso di Desciglio c'è il Paris Saint Germain, nel caso di Rugani ci sono tre squadre inglesi che vi vogliono, che faranno andare al Brescia a rischiare di fare la Serie B. Quindi è ovvio che un giocatore comunque non va lì, ma va laddove può giocare un pochino con più continuità, diciamo in maniera in un ambiente un pochino più competitivo. Quindi per tonali le contropartite devono essere di carattere giovanile, quindi tutti giovani della primavera, tutti giovani comunque che la Juventus non lancerà mai, che il Brescia invece potrebbe plasmare. Il problema è che la Juventus ha messo un veto, per ora ovviamente, perché il video giustamente non è certamente un qualcosa che riguarda al futuro, ma è una cosa che riguarda il presente, la Juventus ha messo un veto su Nicolossi Caviglia, e io sono d'accordo perché Nicolossi Caviglia per me è uno dei migliori interpreti del ruolo, diciamo tirati fuori dalla Juventus nel calcio. Quindi non mi piacerebbe, ha detto Paratici, inserire Nicolossi Caviglia nell'affare. Si spensa invece al nome di Muratore e il nome di Touret. Per chi non conoscesse Touret, io ci ho fatto un video su Touret, basta mettere Touret, metti P10 ed esce Idrissa Touret, che sarebbe il nostro gioiello della primavera, che sicuramente è un buon giocatore, paragonato anche a Pogba per stile di gioco, ma sicuramente ragazzi non è un giocatore su cui scommetterei più di quanto scommetterei su Nicolossi. Cioè tra Nicolossi e Touret a me piacerebbe più sacrificare Touret, vi dico la verità. Per quanto io lo stimi e lo consideri comunque anche un talento normalissimo, un buon talento, ma non che può arrivare ai livelli a cui io stavo pensando potrebbe arrivare Nicolossi Caviglia con un po' di costanza e di allenamento. Detto questo, qual è il nodo del problema? Il problema è che Cellina a un certo punto aveva chiuso la porta e aveva detto oh guardate che noi non vogliamo più vendere Tonali quest'anno, ma lo vogliamo vendere dopo gli europei perché abbiamo la speranza che lui faccia un buon europeo, abbiamo la speranza che giochi con la nazionale, abbiamo la speranza che il prezzo del suo cartellino comunque lieviti, perché se Tonali me lo valo di 50 milioni di euro prima di un europeo, se Tonali va all'europeo, fa tre partite, ne fa tutte e tre buone, Tonali costa 80. Il problema è che con la situazione coronavirus in giro praticamente gli europei sono stati rimandati, prima c'è stato il dubbio se ci fosse stata la possibilità di giocarli, adesso non c'è più questo dubbio perché praticamente sono stati rinviati e quindi Cellino si ritrova un po' la patata bollente in mano, perché adesso deve capire come fare, uno a trattenere Tonali un'altra stagione perché la vedo dura, due deve cercare di trattare con le squadre che lo vogliono, quindi secondo me Tonali a fine stagione il Brescia lo lascia, non so per chi ma lo lascia, la Juventus è l'opzione preferita dal ragazzo nonostante il ragazzo non sia juventino, perché Tonali ha sempre detto di essere il difuso del Milan, Tonali non è assolutamente juventino ma comunque riconosce che per la sua carriera sarebbe comunque molto meglio giocare con la maglia della Juventus, perché gli consentirebbe di avere una possibilità in più, gli consentirebbe di avere comunque un certo tipo di prestigio e un certo tipo comunque di valore all'interno del calcio che conta. Ora, molti di voi mi hanno detto, mette Tonali assomiglia a Pirlo, è una cosa che si sente sempre, no? Ovunque, Tonali ha detto che lui non si sente Pirlo, ha detto che io mi sento più un gattuso, sinceramente non ho capito dove si veda, e molti, tra cui lo stesso Pirlo, ha detto Tonali non mi somiglia affatto, Pirlo l'altro giorno in una dichiarazione ha detto, Tonali mi somiglia nella pettinatura e nei movimenti, ma a livello tattico mi ritengo un giocatore completamente diverso, io sono un riferimento centrale di un centrocampo a 3 o a 4, Tonali potrebbe giocare tecnicamente come punto di regia e di impostazione e di creazione di gioco all'interno di un centrocampo a 2, quindi se tu volessi fare un 4-2-3-1 con Tonali, Tonali lo potresti mettere davanti alla difesa in compagnia di un mediano roccioso, questo è quello che ha voluto dire, e questo è quello che penso anch'io, non perché Tonali non possa fare la mezzala, ma Tonali nasce tatticamente davanti alla difesa. Ora, dirò una cosa che probabilmente ragazzi vi farà un po' innervosire, però giustamente è una cosa che devo dire perché altrimenti sarei falso, per me Tonali non è ancora pronto per giocare titolare alla Juventus, e non c'entra niente il discorso dei giovani che devono essere lanciati, perché quando è arrivato De Litt alla Juventus, 19 anni, cosa ho detto? Che De Litt sarebbe stato pronto per giocare titolare alla Juventus, se togli qualche erroruccio all'inizio De Litt la pressione l'ha retta anche troppo bene, ed è un giocatore che ha una reputazione sicuramente internazionale maggiore a quella di Don Tonali, che comunque alla fine sul curriculum che cos'ha? Una stagione buona in Serie B, mezza stagione in Serie A, livelli decenti, ma deve ancora far vedere tutto il suo potenziale, ed è un potenziale alto, ma non credo che una squadra come la Juve che miri a vincere la Champions League possa prendere Tonali e metterlo titolare, quindi se Tonali viene sicuramente farà un po' di panchina, specialmente all'inizio. Non so a chi la farà, se la farà a Bentancur, se la farà a qualcun altro, ma non ne ho la più palida idea, ma comunque non sarà titolare fin dal primo momento, anche perché possiamo dire anche la verità come stanno le cose, la nostra tifoseria è una tifoseria un po' incoerente, tutti vogliono Tonali titolare alla Juventus, poi Tonali arriva a titolare alla Juventus, fa tre partite in cui non piace ai tifosi, i tifosi cominciano a parlare di bidone, sopravvalutato, un ragazzo di 18 anni che non ha una personalità come quella di De Litt, come quella di un Del Piero che fu 19 anni a titolare alla Juventus, come quella di tanti altri giocatori come Mbappé ad esempio, ne risente molto, perché io so che Tonali non ha ancora quella personalità tale da poter reggere tutte quelle critiche, è un mio parere ovviamente, non è legge, sto dicendo solamente come la penso in relazione all'intrattenimento che vi offro, per come la vedo va bene prendere Tonali, per me l'offerta giusta sarebbe 30 milioni più un paio di contropartite, quindi 30 milioni più Touré, più ovviamente abbiamo detto Idrissa Touré e abbiamo detto anche che erano interessati a Muratore, 30 milioni più Touré più Muratore per me l'affare si fa, tranquillamente, ovviamente i 30 milioni devono essere spezzati in più esercizi, quindi 30 milioni pagabili in tre esercizi, 10 milioni all'anno, più Idrissa Touré e Muratore, con un piccolo, una piccola clausola, Touré e Muratore, pretenderei su uno dei due il diritto di riacquisto, per vedere se comunque, o meglio, il diritto, l'opzione di riacquisto, non il diritto, cioè la possibilità che ogni giorno la Juventus vada e possa riacquistarli, fatemi sapere nei commenti, cosa ne pensate voi, la vostra offerta, voglio sapere la vostra offerta per Tonali, e soprattutto cosa pensare di voi, ciao!